ho il cazzo duro non mi sono preparato un discorso non so un cazzo di niente ho problemi perchè ho tutto scarico ragazzi ho tutti i cellulari scarichi ho problemi grossi ragazzi io sono partito stamattina alle 10 dal bnb e sono arrivato adesso che sono le 10 e 40 ragazzi io dopo 12 ore e 40 di viaggio che sto in giro sono veramente esausto ragazzi sono veramente stanco vi chiedo scusa perchè il volo è durato 2 ore e 20 però per arrivare fino in questa cazzo di città ci ho messo tipo un botto di tempo ci ho messo ragazzi ci ho messo veramente tanto tempo ci ho messo per riva qua vi chiedo scusa vi chiedo scusa la prima cosa che la prima cosa che ho notato dentro questo posto che non funziona internet cioè le sim italiane sul live you solo non funzionano cioè funzionano solamente in determinati posti per esempio dentro l'hotel dentro la camera adesso mi da offline io dovevo decidere se partire per la romania dovevo decidere se partire con la romania con o senza fan ok senza o con quella persona lì che è venuta con mega sarebbe domenico io ragazzi sono stato più che gentile io ho pagato il viaggio io ho pagato il viaggio per venire a milano io ho pagato anche il viaggio per tornare a casa quindi non è che ho fatto qualcosa di male no perché tra tutto mi sono partiti tipo 500 euro io non è che forse avrò sbagliato nei modi però io sono stato sempre corretto con tutti ok sono stato sempre corretto con tutti ho pagato ho pagato il viaggio di ritorno 350 euro io ho pagato il viaggio di andata di 150 per Milano ho chiamato avevo chiamato questo fan per fare il viaggio con me ok qual è il problema qual è il problema il problema ragazzi è che si è presentato nel momento in cui a me onestamente viene naturale ok a me viene naturale mi ha dato molto fastidio mi ha dato molto ma molto fastidio il fatto che mentre io gli parlavo mentre io gli parlavo lui stava lì col cellulare a messaggiare con o con la ragazza o con altre persone ora voi potete dirmi tutto quello che cazzo vi pare mi potete dire che sono un pezzo di merda perché l'ho rimandato via quello che volete ma io sono stato corretto non è che io il pezzo di merda ero un pezzo di merda nel momento in cui io prendevo e lo rimandavo a casa e gli dicevo pagatelo da solo il viaggio per torno a casa ma sono stato corretto nonostante tutto gli ho detto guarda ho fatto un errore ha fatto venire qui senza conoscerti ti rimando a casa punto non ci sta niente da dire non ci sta né da discutere né niente punto non è che ci sta dando da ragionare ragazzi ci sono cose che io non riesco a passare sopra ci sono cose che io non riesco a tollerare quando si tratta di educazione quando una persona ti parla in faccia hai fatto bene tranquillo quello mi ha dato veramente fastidio poi che era un po' introverso che non riusciva ad aprirsi così quello lì veniva dopo ragazzi ma si tratta di buonsenso ok mi ha dato fastidio quella determinata cosa io onestamente partire con una persona che magari stava tutto il tempo sul cellulare mi dava onestamente fastidio e quindi ho deciso di rimandarlo a casa ma non è successo niente perché alla fine gli ho ridato gli ho pagato il biglietto gli ho pagato tutto io ti dissi invita a me e copci e alla fine mi hai pisciato faccina che ride infatti anche lui mi ha detto che anche lui mi ha detto che praticamente non si aspettava le live non si aspettava questo tipo di cose mi ha detto che secondo lui secondo lui mi ha detto che si aspettava una live cioè non ha mai fatto live ovviamente non sa cosa significa fare live però se io diamo una persona che mi serve che mi deve fare da spalla che sta sempre lì col cellulare a chiacchierà mentre io gli parlo sulla faccia mentre io cerco di attaccare discorso onestamente a prescindere da quello che mi dice se a prescindere da quello che mi dice se parla se risponde un po' freddo quel che è però si tratta di educazione una persona ti parla in faccia e tu stai lì col cellulare a contattare la madonna ma ha dato fastidio quella cosa ciao ciao Grazie a tutti